E diciamolo pure, e diciamolo pure, questa nazionale di Mancini, qualche gioia, qualche soddisfazione, ce la sta regalando o no? Dai, onesti e seri, fatemi un pochettino, scusate, disattivare le notifichine, e beh, diciamolo pure, perché comunque, fino all'anno fa, fino al mondiale dell'anno scorso, non ci siamo nemmeno qualificati, ho capito adesso il livello, le squadre, quello che vuoi, oh, ma qua, 8, 8, 8, Vittorie su 8, 24 punti su 24, eeeh, robetta, 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 eeeh, niente, niente, molto molto bene, 5 gol a Lichtenstein, poi, e beh, il calcio è bello anche perché, se uno non vede la partita, dice, no, fino al 65esimo, 70esimo, stavamo lì sull'1-0, e Salinovi, Salanovi, Salamizieci, come cavolo si chiama, che pure è bravo il giocatore, adesso non lo so se lo riesco a trovare, Salah, Salinović, Salino, Salanović, Salinović, come cacchio, ma poi la formazione è dov'è? Eccola qua, Salanović, 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 tra l'altro ha impensierito più volte la difesa azzurra, e ha sfiorato, ha sfiorato il gol del pareggio, e complimenti, bravo a Sirico, che comunque è un bravissimo portiere, mamma mia, i due giocatori là del Toro, Sirico e Belotti, stanno facendo la differenza col Torino, ma stasera anche con la Nazionale, Belotti, Belotti, Belotti è bravissimo, un trascinatore, veramente sbaglierà qualche gol di troppo, ma a me piace tantissimo, si sacrifica, è proprio un attaccante tosto, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, ho già detto che mi piace, mi piace davvero Belotti, cosa volevo aggiungere? Ottima prova, anche del nostro Biragli, se vogliamo, e dell'altro terzino, mi è piaciuto di Lorenzo, molto molto caparpio, bello tosto, bravino, però se mi devo soffermare, un giocatore su tutti, è stasera che magari l'avversario è quello che era, magari il campo tosto, brutto, duro, perché pioggia su pioggia, però Verratti, mamma mia che giocatore, Verratti, mamma mia, quante volte ti tocca il pallone, quante volte ti trova la giocata, quante volte ti fa pulizia il mezzo al campo, a me piace tantissimo, Verratti, e dopo partite come queste che mi accorgo del suo valore, perché veramente è sempre lì al posto giusto a far salire la squadra, è sempre lui il regista, è un giocatore molto molto capace, è un giocatore che forse in Italia l'abbiamo visto poco, perché è sempre a PSG, quindi magari non ne abbiamo una concezione, almeno io che non seguo la Francia, seguo veramente poco il campionato francese, non abbiamo un riferimento bello specifico sul giocatore, credo che sia veramente un centrocampista di grandissimo livello, Verratti, a me incanta, incanta palla al piede, sbagusciamento, e niente dai ragazzi, è un risultatone, e poi bisogna essere orgogliosi adesso, bisogna anche un pochettino essere orgogliosi, anche perché con questa vittoria, se ho capito bene, non vorrei dire cappellate, ma consolidiamo il decimo posto nel ranking europeo, se ho capito bene, e quindi di conseguenza saremo testa di serie all'europeo, questo cosa significa che, come nella prima fascia della Champions League, quando farai, quando ci saranno i sorteggi, tu becherai, quindi non testa di serie, essendo una testa di serie, non so, essendo una testa di serie, non bec testa di serie, per cui le squadre top, 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 non le dovresti prendere, e non è, e non mi sembra, non mi sembra affatto poco. Quindi, lavoriamo così, molto bene, molto bene, dietro bisogna forse lavorare, vabbè, stasera giocavano Mancini e Romagnoli, Mancini in Ni, Mancini in Ni si è fatto saltare più volte troppo facilmente, l'ho visto spaisato, ma tutti gli altri, tutti gli altri mi sono, mi sono piaciuti. Niente, buona, buona così, buona così la Nazionale del Mancio, un grande abbraccio e al prossimo video, domani, buona notte, buonanotte suonatori, buonanotte, iscrivetevi al canale, buonanotte.